Allora facciamo un ripassone, vabbè facciamo gli esercizi. Quando c'è il pericolo di un grande disastro naturale, la città può ordinare l'evacuazione dei cittadini, ma da itsu kaji ya jishin ga okiru ka wakari masen. Inoltre non si sa quando terremoti o incendi eccetera eccetera possano venire. Sui tabae ni sonai te, considerando questa cosa, partecipiamo ai corsi di... Sappi che ti ho preferito a Shibuya Keiho. Eh beh mica cacchi, ma è che tanto i due pagine no? Con lei la guardia mi risenti. O senti tutte e due, però basta che non ti confondi la voce perché sono simili. Allora Fuse... Intanto sto facendo solo ripasso e poi faccio gli esercizi. Fusebo... Fusegu, prevenire. Bosai, prevenzione, disastro. Boshi che è come cappello ma si pronuncia in modo diverso e quindi è prevenzione o prevenire. Allora vediamo se di ricordarceli. Poi abbiamo... Iobo è protezione o proteggere. Sai è disastro. Sai gai è disastro. Kasai è incendio. Disastro assomiglia a fuoco. Disastro assomiglia a fuoco. Sì, infatti questo è fuoco. È fuoco con sopra sto coso. Kasai infatti è incendio. Questo qua è incendio. Che è fuoco più l'altro. Kun è ordine. Kun re ne esercitazione. Kun yomi è pronuncia dei kanji. Questo qua non lo sapevo. L'ho imparato l'altra volta. Oso o kyo. Questo qua è quello di paura. Osore è aver paura. Non è paura. Osoreru è aver paura. Osoroshi è spaventoso, terrificante. E kyo fu è terrore. Poi saoi e sakeru. Evitare. Esatto. Quando inizio la lezione mi chiamo. Aspetta che non funziona il telefono. Minchioro. Uno di Maggi. Ma tabacca. Ho attaccato. Compiuta adekita? Ah no, stavi aspettando me. Ho messo già è usato. Devi metterne un altro che non è usato. In co, ti ho detto. Io non sono andata. Alex o è Yugozaimasu Alex san. Occhio che ci è il viva voce. ciao Gio ho io gozaimasu Mako-san ciao Gio Gio ho venduto Mako saluta prima no era spento con bambua vi dice Mako perché lì è l'otto ciao Mako oggi oggi nevica no qua è merda questo è lo nuvolone no ieri li hanno portati ieri è venuto il corriere no il popò non ci sono il popò Mako con bamba il popò non ci sono no quello è mio non dobbia le mie cose lui è adulto non è popò vabbè Mako vado a fare lezione se non finisci bye bye minna matanette ciao ciao diciamo quando ho finito dopo devo aiutare Mako che praticamente ha fatto l'aggiornamento di Windows e non gli funziona più l'audio siamo tornati indietro nel tempo però poi gli fa lo stesso aggiornamento e toglie l'audio di nuovo quindi siamo a posto Sakeru evitare Inan evacuazione Furu o Shin questo è quello di Furu Eru tremare che è quello di Gishin infatti terremoto Sona o B Nisona Eru prepararsi a questo è Setsubi che equipaggiamento ogni volta non me lo ricordo Seibi anche non me lo ricordo perché sto guardando qua provo a leggerlo da qua Junbi me lo ricordo preparativi aspetta Seibi è manutenzione e Setsubi che lo trovo mille volte però sì questo qua ho scritto equipaggiamento ma significa un sacco di roba significa attrezzatura significa un sacco di cose Zai Osai questo qua è Saizan che è patrimonio no questo è no sì è patrimonio come vantaggio fortuna però è ricchezza anche patrimonio me lo scrivo patrimonio perché poi negli esempi dicevano ho perso tutto il mio patrimonio quindi ricchezza fortuna in questo senso lì Saifo il portafoglio quello lo sappiamo Rei Mere e Ordine questo qua l'avevo trovato ieri che non me lo ricordavo Doa storia di bambino e Gido e bambino e tipo questo qua me lo confondo sempre con Ryu quello di Drago non è simile si cambia solo il pezzo sotto però io me li confondo sempre Doa che è storia di bambino e Gido che è bambino questo qua è quello di Seito studente che è un altro voglio dire studente Seito infatti e Toho per camminare c'è tipo marcia a piedi c'era anche quando abbiamo fatto la strada eccetera eccetera questo è Ren Zoku è di continuazione e Renkyu Renkyu è vacanze con te questo non mi ricordo è la cosa che lo posso vedere qua Renkyu non mi ricordo ah sì quella ok Kanren è avere a che fare con poi abbiamo Raku che è contattare Ren Raku infatti è contattato ok questi no poi andiamo avanti Kasai è incendio Kasai Okitara qua non so perché non ho sottolineato l'unica cosa che devo sottolineare Kasai Gaokitara Iga Iga Daigaku Shinai Yo cos'è sta roba? Ah Shinai Yo Mazu Shui Nishira Sete Kudasai quando accade un incendio per non fare espandere i danni la prima cosa è avvisare fare saperlo al vicinato Kemuri Wasuanayoni Ishte Nigete Kudasai senza ispirare il fumo scappa questo qua è Yudoku forse non mi ricordo più Yudoku si pronunciava dovrebbe essere Yudoku aspettate ah sì magari giro la pagina se guarda sulla pagina prima non ci sarà mai scritto Yudoku sia giusto Yudoku Kemuri Wa Hiyori Mo Kiken cercate di scappare senza ispirare il fumo il il fumo tossico è molto più pericoloso del del fumo stesso Kaku è espandere o allargare Kakudai espandere qua il contrario Shukujo rimpicciolire che me l'ha messo non so per quale motivo per fare la differenza Shukujo Shukushou Shukushou Kemu o En che è quello di fumo Kemuri è proprio il fumo però non è fumare attenzione Kemuru è fumare però inteso come fumo invece tabacco su è fumare Kemui è fumoso e Kin En è vietato fumare questi qua me li confondo sempre non lo devo ricordare ok Su è o Kyu è ispirare o fumare Kyushou Kyushu Kyushu non era Kyushou è assorbire niente questi Shukushou io me li confondo sempre Kyushou o Kyushu cosa cacchio è? sono passato a tre Kyushu dove è? Kyushu no Kyushu ho cominciato Kyushu e poi abbiamo Kokyu e respiro questo qua è quello di scappare Nigeru Ganigeru o Nigasu scappare fa scappare Doku è veleno Yudoku è tossico questo qua è Shodoku disinfezione non so come dirlo Kyudoku essere abbenenato e Kyunodoku essere sfortunato poverino To o Tei Tomeru è fermare Tomaru è fermarsi questo qua è usato con i mezzi Teishi è fermo Teiden è come si chiama? si dice così l'energia elettrica è bloccata e Teisha sono le macchine fermate Unko non Nigeru si dice così no quello è scappare ah inteso mi scappa la cacca no si dice esce si dovrebbe dire uscire come verbo non scappare Kitsu è mangiare Kitsuen cioè mangiare e bere Kitsuen è sia per fumatori cioè per fumatori e Kissaten è caffetteria questo lo devo ricordare Ai cenere Airo è il colore della cenere che è grigio Aizara è il posa cenere Sumi o Tan questo qua è quello di Carbun Sumi carbone Sumibi Sumibi è la carbonella Sumibi me lo devo ricordare questo lo ho letto bene e questo qua è Sekitan che è sempre carbone però inteso come pietra anche questo qua è il cangio di pietra questo carbo To è luce questo non me lo ricorderò mai To Dai è lampada d'olio To Yu è lampada il cherosene e Dent è la lampada elettrica e questo qua era quello luce florescente che adesso aspetta Kei Kei Ko To si è giusto Kei Ko To Wee Masi Bongi Ana Anasuo è lasciare andare e Oso è trasmettere questo qua è quello di Shido che mi dimentico sempre istruire Michibiku che è istruire e guidare e Shido è istruire 6-3 questo dovrebbe essere Kotsu Toraburu c'è una parte che l'ho scritto di fianco lui lo sto tentando di non guardare in modo tale da vedere se me le ricordo più o meno me le ricordo allora questo qua già non me lo ricordo Ko Kossaten ora maestro Kossaten no Shingo ga Koshi stato ki Kei Satsukanga Aizuo Daste Kureta Ione quando il semaforo dell'incrocio non funziona è riparazione il poliziotto cioè che poi sarebbe il poliziotto il poliziotto è la stessa cosa ci dà il segnale di quando dobbiamo muoverci praticamente So Yeba e parlando di questo Kesa Konoasa questo è Kesa Kesa Konoasa è diverso Oio Kesa Gido oh mio Dio Gido Han cosa qua è quello di dello scambio della moneta no quello della della la biglietteria Gido Gido Sai Han non me lo ricordo Max San Gido Kais questo me lo segno questo me lo ricordo Kais Kais questo non me lo ricordavo Gakoshi questo dovrebbe essere sempre Kosho non Kosho dico sempre Kosho 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 E questo me lo dico sempre Kosho e questo me lo dico sempre Kosho e questo me lo dico sempre Kosho questo è Masaru che è mischiare Magiru è mischiarsi Maseru è mischiare Kosatene è incrocio e Corio è intersezione poi abbiamo Go che è numero Shingo è semaforo Bango è numero e Kiko è simbolo Ichigatsu Go è quel mese riguardo a gennaio eccetera eccetera questo è quello di Kosho che me lo devi ricordare questo dico sempre Kosho non so perché boh perché ho fatto un coso non so neanche quello allora Kosho da riparare Cocchio e Guago di Mastro Alla fine ho fatto la quest del corporativo non è niente di che l'hai già finito ma tu sai come in caso hai fatto vabbè io sono ancora a metà neanche a metà che gli allarme per me è Bari Barando sapendo di barare che gli allarme ho avviso che i Satsu è polizia che i Satsu cane poliziotto questo è Fudo Satsu Fudo è la banconota questo qua è l'Ifuda che è il cartellino il prezzo del cartellino e questo è quello di cui ho sbagliato prima Kaisatsu Gucci è biglietteria e Gido Kaisatsu è l'operatrice automatica Ichiman è in Satsu e la banconota a 10.000 però ti dà un'arma leggendaria non è quella allora segno cartellino fu Fugo Marchio Kippu Biglietto vedi che qua Joshua Ken Cho Ufficio Ken Cho è ufficio della prefettura Kaisatsu Cho è il commissariato di polizzaia Abba è larghezza Do vedi qua già ho letto Do Abba perché questo si pronuncia anche Do ma è Mici Mici Abba è larghezza della strada e To è torre e Fer No, non è l'ho finito ti ricordi ti dissi Corporativo Nomade aveva un missione speciale Sì ma avevi detto che gli altri avevano delle missioni speciali ma io pensavo che era uguale ho scelto a caso pensavo che aveva un senso quella difficoltà Saka e pendenza Saka Mici è strada in pendenza qua abbiamo poi scritto Kudari Saka che è in discesa e Nobori Saka che è in salita poi Shiro che è Castello Gio Shiro Castello Osaka Gio invece è il castello di Osaka questo è quello di vivere vivere siamo vivere nel tenso di vivere Kurasua è vivere Kurashi è vita Kureru è incupirsi questo non lo sapevo Kure è fine questo qua non lo sapevo poi 4 questo qua è quello dei ladri ho fatto la missione speciale del corporativo ma dura 5 minuti eh non lo so non sono mai arrivato io sono ancora in mezzo a una strada con la motoretta contro un muro allora questo qua è Tonan Jiken caso di furto Kino Kinjoni Doroboga Aite Genkin Ya Oseki Ga Nussumare Tadatte Animo Madatsukamate Naimitai ieri nel come si chiama nella zona vicino a qui è entrato un lato ha rubato soldi e gioielli eccetera eccetera e il criminale non è ancora stato catturato e siamo ancora qua in che senso siamo ancora qua la canzone ok e ecco che paura Watashimo Fudankara la canzone di Vasco questa qua cos'è che era Boan Boan Nikioskenai To e che paura anche io devo proteggermi contro i crimini ordinari Nussutto allora Nussu e To Nussumu è rubare Tonan è ladro furto e Goto è rapinatore questo qua è regalato da me Nussuttu che è un altro modo di dire ladro che è anche più facile rubare più persone è ladro doro e fango bo e bastone insieme fanno doro che è ladro motivo non si sa takara è tesoro takaracuji è come si chiama la lotteria osechi è gioielli sì anche doro è scritto però Nussuttu è più veloce c'è anche Tonan poi abbiamo Okawan Okasu commettere annin è criminale e poi abbiamo boh anche prevenzione del crimine ok poi abbiamo questo è quello di catturare tsuka toho gatsukamaru catturare tsukamaru cioè sarebbe transitiva in transitiva stessa storia toru è prendere guarda che c'è mol questo qua taiyo suru sei in arrosto fu che è quello di normale fudane ordinario fuzio è normale e questo qua è fukyu che è diffondere o espandere questo qua per me è strano perché significa normale più ispirare però significa il contrario ok diffondere o espandere tsukyu o kyō queste qua sono quelle che sbaglio sempre perché io tento cioè leggo il kanji e faccio uno più uno invece qua uno più uno fa tre quindi non va bene tsukyu o kyō questo è il kanji di forte tsukyu kyoryoku kyoka kyoka è potenziamento e go in è costringere con la forza e la violenza questo qua è regolare kyoryoku è potente poi abbiamo questo è abareru è agitarsi fare casino ga abareru comportarsi da selvaggio scritto porioku è violenza e rambo è violento depotenziato dovrebbe essere il contrario yowai più questo dovrebbe essere indebolito si dice non depotenziato dovrebbe essere questo o metti fu o metti mu mu o fu o metti il fu davanti però non so o devi mettere debole più adesso lo cerco devi mettere debole più l'altro aspetta yowai yuka vediamo se esce yowai in teoria si esce si dice giacca e così giacca giacca dengektai giacca debole più quello lì più il secondo caso allora che debole poi going l'abbiamo fatto rambo l'ho fatto questo qua non me lo ricordo mai sciori è processare disporre per me anche finire sciori e shobun è disporre o dare una pulizione o eliminare infatti quando ti dicono adesso hai fatto una cosa di brutta anche l'abbiamo visto cioè l'ho visto nel gioco l'altro giorno che gli hai detto dopo pensiamo alla tua posizione shobun giacca potenziato è anche giacca c'è scritto awakening come cacchio si chiama aspetta wiki 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 no dall'anno scorso ok grazie indebolire significa poi aspetta mi sono perso mi sono perso sì shobun comunque è dare una punizione a qualcuno lol questo qua è moneta è il valore della moneta coca è proprio il valore della moneta invece zucca è la valuta coca questo non me lo ricorderò mai coca è vero non si è più visto dagli auguri di buon anno l ho fatto scappare regalandogli l a donamento l ho detto era un addio eh sì no ma non era un addio sono i saluti normali se ti faccio vedere i saluti che mi hanno fatto tutti i giapponesi sono qua magari preso tama moneta juendama è la moneta da 10 yen e questo è mizudama mizudama moyo che è il design apua poi avevo messo danno lo ho segnato comunque palla quello di genkitama andiamo avanti 6-5 questo è quello che ho fatto due giorni fa me lo dovrei ricordare proprio per correttezza si legge lo stesso conomai nodoro yokujitsu nita yosaretan dattene sai che il ladro di qualche giorno fa è stato catturato msasuga keisatsu danè brava la polizia keikan qua io posso dire keisatsu kan dice keikan ma la stessa cosa il poliziotto che ha iyeo nan ken mo e tazune te questo qua è tojitsuno kotou ki itetai ho sentito che il poliziotto lo stesso giorno è andato a visitare parecchie case zumi è peccato o zai zumi è crimine o peccato io lo sento più come peccato che come tipo camera rider w dice anata no zumi o kazoo ero fai il conto dei tuoi peccati o dei tuoi crimini però la stessa cosa che lui è un detective che si trasforma in camera questo qua zai è crimine yoko è dopo yokujitsu il giorno dopo qua abbiamo la sfizza dei ah seba questo è importante guarda quanti perché non vi ho mai spiegato tutti gli questi non sono tutti il kanji questo qua è uno dei primi kanji che impari però a mille significati allora ikanichijitsu kan o mi viene in mente niente nikano no allora hijiorno izuke è data hijio no nichijio è vita di tutti i giorni hijio è diverso come è scritto nitte cioè prendere un appuntamento avere una cosa in agenda tojitsu è il giorno in questione poi c'è dojitsu che è lo stesso giorno però qua non l'ha messo e jitsu giorno della settimana shukujitsu è il giorno festivo e senjitsu è il giorno prima poi abbiamo shou è stazione ufficio però qua sincashome è firmato è top kisatsu shou è la stazione di polizia prima avevamo jo vero no chou prima avevamo kisatsu shou che è come si è arrivato kisatsu shou è la stazione di polizia poi abbiamo shou che è la stazione dei pompieri e busho qua dice posta però per me è sezione di partimento busho l'ho messo io questo nel libro diceva posta per me è sbagliato però vabbè l'ho scritto lo stesso ken casa niken io questo kanji l'ho sempre sbagliato l'ho sempre scritto così ho sempre messo questo kanji qua e invece era questo almeno mi ricordo così niken e due case questo qua è il suffisso per contare le case una casa due case tre case quattro case allora kyo e quindi abbiamo trovato un altro numero bello fresco e kyo è stato giochio e situazione questo qua è kotowaru che è dire c'è chi dice no e poi abbiamo dan sui che ti blocco l'acqua yudan è abbassare la guardia e odan è attraversare cioè completamente allora stesso kanji ha cinque significati diversi ma sarete stronzi vabbè andiamo avanti zutto questo qua è uguale a zuttomeru che è quello di lavorare ve l'ho già detto mille volte però cambiando il kanji diventa impegnarsi dorioku è mettercela tutta questo qua è uccidere korosus o satsu korosu è uccidere satsu gine a zazzino e gisatsu è suicidio questo qua otoku con il ma sopra è isa o yu che è quello di coraggio c'era quello con dodici significati diversi sì no ma sì no ce ne sono anche di più sì certo però è capito c'è tipo un harimass che abbiamo fatto nell'esercizio si usa in mille modi diversi e ha significati diversi sono quelle cose lì dove ti fai sbagliare perché tu magari ne conosci qualcuno non li conosci tutti i significati e capisci una cosa apposta dell'altra allora isamashi è coraggioso yuki è coraggio poi abbiamo shok e varie cose e asia shokoku è nazioni dell'asia an è contro lo impari solo con la pratica esatto o perché abiti in giappone fuori di sentirlo ti rimane in mente ansuru io molte cose le so per quello ansuru è contraddire hantai è essere contro e anei è riflesso specchio riflesso influenza invece adesso c'è il problema che il mio sito quello cinese non mi mette più i link per vedere i drama e sono triste non posso vedere più i drama dovrò fare un account cinese su baidu.com e non so come si fa dopo guarderò allora qq ah no vabbè gli esercizi no niente facciamo gli esercizi vediamo che cosa ci capisco vediamo se ci becco qualcosa allora dov'è il mio coso per non più birciare qua prima li leggo perché sennò è barro perché quando schiaccio la barra esce fuori scritto quindi allora tomodachi tanomarete questo qua cos'è shonen shonen sakachimno shido osuruko toninata vedi a fria di sbagliare mi mette le cose che sbaglio sempre quindi forse la faccio giusta ed è la 2 giron o kyokani questo dovrebbe essere tsutomeru maini o susumeru maini uno dei due mi sa che è susumeru iroirona ikeno kitaogai prima di prima di com'è che si dice prima di mettere in dubbio qualcosa spingendo boh Goin è tipo di prepotenza ascolta i vari discorsi i vari pensieri Goin comunque è la 1 questo non lo so questo non lo so Saiban dopo me lo segno Saiban come si chiama non è tribunale ma è processo Saiban de uso no a tsuge no suruto so redake de tsumini in tribuna cioè nel processo se dici una bugia cioè se quello che dici è una bugia anche quello è un è un crimine questo è tsumie 3 Kojin gioco o nusumare na ioni kioske ma sho stiamo attenti a non farci rubare le informazioni personali Kojin dovrebbe essere personale aspetta me lo ricordo ma non mi ricordo il sindicato cioè nel senso lo so leggere ma non vorrei dirmi la stronzata Kojin Kojin individuale privato si cose private qua ho detto nusumare na i nusumare na i dovrebbe essere la 4 jiken no koto o omoida suto ima demoko akute karada ga fuero quando ripenso ogni volta che ripenso a quel caso l'incidente a quella roba lì anche ora ho paura e mi tremano le cosce e mi trema il corpo però come cacchio si chiama furueru furueru è la 3 poi kutsu nitsuita dorode e questo non lo so o yugosanaide non sporcare con le scarpe sporche di fango qualcosa che non so leggere genkan genkan è l'entrata ora me lo segno d'oro è il 2 comunque i kokino bello che mi ricordo i kanji nuovi e quelli vecchi me li sono dimenticati perché sono avanti i kokino tra burugata tokiwa quando c'è un problema all'aereo hontoni kyofu o kanji tai minchia ci credo stai volando quando c'è un problema sull'aereo ho sentito veramente il terrore kyofu aspetta è mo kyofu con la u sai fu no dovrebbe essere senza 3 ok faccio anche questo qua così poi scrivo non devi avere paura non devi avere paura io pensa che mi è venuta paura dell'aereo anche ah no ve l'avevo detto attacchino yasai otaberu dobutsu o tsukamaete tsubarashide sione dobutsu o tsukamaete yamani modoshta che cazzo significa ho catturato gli animali che mangiavano la verdura dei campi e li ho riportati in montagna eh sì perché vivono in montagna yamani e qual è tsukamaeru tsukamaeru dovrebbe essere ha tsukamaeru dovrebbe essere se non sbaglio il 3 koneko wakawai ah non vedete quello che sto dicendo scusate koneko koneko wakawai ga tokidoki abareru no ga komaru i gattini sono carini ma ogni tanto impazziscono cioè si spaccano tutto fanno casino e creano problemi abareru è quello di abarenja che è abare oh mio dio abareru sai che non so se è questo o è l'uno o il due però non mi ricordo se è abba dovrebbe essere il due però non mi ricordo o è l'uno o il due qua dico due perché non mi ricordo se è fino a abba o fino a doki 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 e battere no non è battere per l'emozione no doki doki è quando ti batte il cuore punto doki doki è il rumore del cuore pensa che io dieci anni fa facevo per lavoro il pendolare con surigo e prendevo il volo lunedì venerdì no tutti i giorni no non se ne fa a zui oiu questo è naio o shio doku shio doku non ho capito no yoki a zui yoki è il contenitore shio doku shita non ho capito shio doku cos'era aspetta ho un'amnesia shio doku non me lo ricordo aspetta lo vedo shio doku dovrebbe essere questo comunque il kanji è il tre però non mi ricordo il significato shio doku non era diffondere cosa c'entra ho diffuso il contenitore con l'acqua calda non tutti i giorni ma il lunedì e il venerdì solamente sì ma io sì ma allora se è un viaggio corto posso anche resistere il mio problema è che disinfettare cosa c'entra scusa a zui oiu ah ho disinfettato il contenitore con l'acqua calda figa ma non si disinfetta con l'acqua calda il contenitore vabbè infatti non capivo il senso toten de wa en ya doru dake de naku okuno tsuka o questo qua non lo ricordo tsuka o questo non mi ricordo qua questo azuka temasu ok la toten cos'era la dita comunque tsuka è questo è il 2 toten cos'era che era fammelo cercare toten è tipo il negozio principale questo negozio ok questo negozio usa yen non solo dollari e yen ma usa anche altre monete altre valute tsuka allora kateio robottoa questo non me lo ricordo isavisa dovrebbe essere ni fukiu ste i kudaro i robot che si usano in casa fukiu cos'era fukiu dovrebbe essere questo qua che quello lì si stanno espandendo l'uso del giojo piano giojo cos'era piano piano questo non me lo ricordo praticamente mi ricordo comunque questo qua è il 4 giojo cos'era giojo lo sapevo ma non mi avevi niente giojo lentamente gradualmente allora i robot che si usano in casa lentamente si stanno espandendo stanno prendendo sempre più di piede vivere da soli è bello ma quando ti ammali sono cazzi praticamente i tori dei gurashi gurashi è questo qua 4 chichi wa saikin no sezubi o mozu biohinde shu jutsu o uketa saishin scusate mio papà è stato ha fatto un'operazione usando i nuovi equipaggiamenti dell'ospedale come que sezubi quale cacchio è sezubi è questo dovrebbe essere l'uno gli altri invece lo faccio ok scriviamo lololol lololololololololololololo comunque ho sacco di parole non mi ricordavo strano cioè le parole vecchie non me le ricordo ti mi ricordo quelle nuove ma non mi ricordo quelle vecchie complimenti o me le ricordo ma non mi ricordo il significato la vecchiaia che avanza o perché non le uso mai quindi poi adesso non posso vedere i drama sono toriste solo che io li guardo e poi li cancello perché non è che li tengo solo che adesso mi trovo senza dorama e sono toriste allora unità 6 esercizi esercise kanji kanji n2 allora yujin qua ho letto tomodachi già e non ci siamo yujin ah no devo scrivere sul su qua uno yujin che è il mio miglior amico ni tanomare te o amico tanomare te mi ha chiesto tanomare te shonen non è questo shonen tante e quelli giovani non è questo figa mi scrivi quello giusto lo scrive ah manca una ua ecco shonen 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 shakka shakka shimu lo scriverà no e lo sapevo shakka c'ha un po' di più shakka shimu no shido non starò mai no shido wosuru shonen è quello dei manga sì sì shonen manga koto sarebbe per giovani ninata allora mi ha chiesto un mio amico di diventare l'istruttore del team della squadra di calcio giovanile dei giovani 2 poi sarebbe piccoli anni allora giron 2 giron giron e dubbio giron o go in go in è di forza però go in go in sì è giusto questo qua su sumerut mai ni prima di avanzare un dubbio un vabbè prima di chiedere qualcosa praticamente ascolta quello che hanno da dire gli altri iroiro na iken vari discorsi vari pensieri o kita ogai è meglio che ascolti quello che dicono gli altri oga i basta poi 3 ah no qua mi devo scrivere i numeri sennò poi faccio casino scido e 2 e qua non ci sto te parevo sapevo io ero contento che ci stavo invece devo scrivere il numero qua e go in e 1 3 sai ma questo me lo scrivo che ogni volta che lo vedo non me ricordo sai perché processo lo so non mi viene mai in mente quando lo vedo de uso uso e bugia al processo se dici una bugia non sei figlio di maria no azzughen azzughen quello che dici azzughen ossuruto se dici una bugia quando parli quando colloquio anche quello sare da che solo quello sare da che su mi sore da che dei su mini naro è un crimine su mini poi ed è la su mille e 3 e 3 poi 4 cojin tekina gioco che le informazioni private informazioni personali o non sumare nai oni per non farsene rubare non sumare nai oni per non farsene rubare chi chi o chi o schiena e to dobbiamo su che tessi ma show dobbiamo stare attenti chi o succhete sci ma sci o un eccolo sapere ma allora per fare in modo che non ci rubino le informazioni private o personali dobbiamo fare attenzione faremo attenzione facciamo attenzione 1 e no dove cacchio è nussumare nai e la 4 poi 5 g che no koto quando penso all'incidente o quel caso quello che è successo g che no koto o moi da su e ricordare quando mi viene l'incidente quando mi viene l'incidente fu fu e fu e fu e ru no fu e fu ru e ru fu ru e ru questo stronzo fu ru e ru ok ed è la 3 poi aspetta che qua li ho segnati 6 kutsu nitsuita a questo genkan genkan è entrata me lo devo segnare kutsu nitsuita d'oro il fango che si è attaccato sulle scarpe zuita a parte che dovevo saperlo fare uno più non ce l'ho fatta de genkan 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 o yo gossanaide non sporcare yo gossanaide yo gossanaide yo gossanaide finisce così non sporcare con le scarpe di fango l'entrata yo gossanaide dovrebbe essere io d'oro e d'oro e d'oro 7 i cochi no to raburu i cochi cochi non è così i cochi no to raburu to raburu ga atta to chi quando succedono problemi all'aereo io mi caco sotto anch'io to kiwa ontoni veramente ontoni ontoni chiofu e paura vediamo se era con una no con due chiofu no con una con una giusto chiofu può candidata mi sono cacato sotto bravi quindi questo qua era chiofu con un solo e la tre allora poi poio niente qua vi illumino i kanji perché se non si capisce niente shido così li leggo e la due poi abbiamo questo qua è go in di forza pre potente monte questo è zumi è peccato o crimine questo qua è nusumarena ioni per non fartelo rubare poi abbiamo furueru mi tremano le cosce poi abbiamo doro che è fango un coperto di fango doro e chiofu che è terrore ok faccio anche l'altro poi scrivo tutto se ne parla più allora attacchi qua cos'è che ho detto si attacchi uno attacchi è il campo attacchi no yasai yasai o taberu taberu do butsu è animale quello è mangiare do butsu do butsu do butsu do butsu o tsukamaete ho catturato gli animali che mi mangiavano l'erba ho fatto giusto tsukamaete yama yamani modosta li ho riportati in montagna yamani modosta e tre era giusto poi due koneko e i gattolini konego ho scritto koneko i gattolini kawaika sono carini kawaika kawaiga ma quando ogni tanto ha fatto tokidoki tokidoki ogni tanto si fanno casino abareru abareru è giusto l'avevo fatto giusto e raba abareru noga quando fanno casino quando si agitano è un problema tipo torah prima che mi soffiava perché voleva mangiarmi la brioche e io gli dicevo torna è la mia brioche abareru è due poi tre azui azui aspetta qua vi devo segnare qualcosa genk ah no l'ho segnata genk azui oiude questo no è sbagliato azui vedi tipo questa qua mi ha confuso perché io non dico questa cosa qua cioè tu disinfetti l'acqua con il il contenitore con l'acqua calda io non ce lo do alcun sterilizzi si ma lo sterilizzi con l'acqua calda io cioè non mica si sterilizza è solo acqua calda comunque questo non me lo ricordavo gli occhi che l'ho letto mai qualcosa invece era gli occhi che il contenitore comunque ho disinfettato il contenitore con l'acqua calda calda con l'acqua bollente perché questo qua è bollente più che calda è sempre azui ma c'è il kanji di nezu che si incaga bollente allora totem si può sterilizzare a 100 gradi eh ho capito ma ti esce l'acqua a 100 gradi dal rubinetto dubito proprio ti bruci anche le mani totem però vabbè io non l'avrei detto comunque non lo uso totem wa in questo negozio anche questo totem non me lo ricordavo l'ho cercato no quando bollente eh quando bollente esatto non ti esce dal rubinetto en en ya per quello mi sembrava strano en ya dorue dollaro dakedenaku non solo dollaro e yen oku che significa qua e significa tanto no zuka zuka e valuta zuka e qua non mi ricordavo quello dopo azukateru keis eh usano azukateru azukateru ma la scuola non me lo ricordavo non ecco me lo segno azukateru invece la risposta è questa ed è la numero eh zuka era due sì giusto semelo quello almeno la risposta l'ho data giusto però non riuscò a leggere le parole top cinque hitori gurashi vivere da solo hitori gurashi eh kiraku sì è giusto kiraku questo l'ho letto cioè se mi accorgo che ho sbagliato a leggere lo segno daga eh bioki ninaro eh ah vivere da solo è comodo è bello ma quando sei malato sono cazzi gli occhi eh ninaro toki quando ti ammali eh ah komaro è un problema komaro yon eh kiraku eh no è gurashi vediamo sì è giusto è quello che ho detto io quattro ok top eh sei no questa qua era no ah questa è la sei ho saltato una frase strano non salto mai eh cinque sposta la riga cinque l'ho saltata adesso la scriviamo eh kateyo è per l'uso della casalingua kateyo robotto robotto cheigi robotto wa eh jojo me lo devo segnare che è lentamente l'ho cercato ce l'ho tradotto ma non mi veniva in mente cosa si incava ni fukyu pukyo pukyu pukyu eh si espande ste eh ikundaro che poi è la parola che vi dicevo prima che dicevo questo ispirare beh fa espandere naturalmente l'ho trovato quindi facile easy è la quattro ok e qua mi devo segnare jojo che è lentamente o pian pian poi sette eh chichiwa mio papà erbabbo chichiwa eh saishin l'ultimo modello saishin no sezubi l'ultimo modello di equipaggiamento di attrezzatura omotsu eh byoin l'ospedale che tiene byoin fa il passeggio tutto al contrario quindi de shu jutsu che è operazione shu jutsu no ce l'avevo shu jutsu mamma mia shu jutsu ce l'ho fatta no allora non ce l'avevo shu jutsu ah giusto quel primo vabbè shu jutsu unketa ha fatto mio papà ha fatto l'operazione nell'ospedale che tiene l'equipaggiamento più più nuovo sarebbe eh eh sezubi vediamo se è giusto si è giusto è quello che avevo detto io l'uno che è comunque sezubi facciamoli all'indietro gurashi vivere che è kurashi però con nitori si legge gurashi questo qua è fukyu e poi questo qua è tsuka e poi abbiamo shodoku e poi abbiamo baleru e tsuka maite ok top perché li accendo anche questi spero di non aver sbagliato come solito copiare il numero bravo la prossima le poggerò dopo eh 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 tac tac e ritac e ritac ok scriviamo tutta sta roba che non ho scritto niente e via Eugene Nita no mare te me l'ha chiesto mio fratello cioè mio amico scusate uno Eugene che è amico più persona Nita no mare te questo è la chiedere Tano mare te eh shonen shonen tante dan che sono gli amici di conan eh shonen cos'è che sa beh questo qua non c'entra niente shonen sacca shonen sacca bello questo qua top shonen sacca cimu il team eh giovanile di calcio cimu no eh shido istruttore shido istruire istruttore guarda shido tre strada scritto in miniatura su questo sotto shido osu rukoto rukotone in alto eh il mio amico eh mi ha chiesto il mio amico eh di diventare l'allenato l'istruttore del del team di calcio giovanile due eh Ghiron Ghiron prima di alzare i dubbi ascolta quello che dicono tutti Ghiron 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 ovviamente e goinn si goinn sussumeru avanzare sussumeru mai ni prima di avanzare un dubbio o un'incertezza o quel che levo o ni i i ro i ro i ro i ro o i ro varie i ro i ro i ro i ro na i ken Iken, vari pensieri, varie discussioni, vari odi di pensare, Iken, Iken, Uo, Kita Ogai, è meglio che ascolti tutti quelli, cioè le cose che hanno dire tutti, sarebbe Kita Ogai, Kita Ogai, I, poi, aiuto, mi è andata via la voce, Saiban, che questo me lo devo scrivere tutte le volte, ogni volta che lo vedo me lo devo scrivere, perché non me lo ricorderò mai, Saiban, cioè so il significato, ma il cangio ogni volta che lo vedo non riesco a leggere, Saiban, magari devo guardare il ban dopo, il ban me lo ricordo, è il primo che mi confonde, non lo vedo quasi mai, The Uso No Hatsugen, se dici una cosa falsa, Hatsugen, se dici il falso sarebbe, o Suruto, al processo se dici una cosa falsa, anche solo quello è un crimine, Sole Dake, Sole Dake De, Tzumi Ni Naro, Tzumi Ni Naro, Tzumi Ni Naro, Tzumi Ni Naro, o Nussumare Na Ioni, per non farci rubare le informazioni private, Nussumare Na Ioni, 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 Nussumare Na venire in mente, to, ima de mo, anche ora, ima de mo, koakute, mikako sotto, ho paura, koakute, karadaga, karade corpo, karadaga, fueru, fueru, mi si incrocia la lingua quando dico fueru, 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 poi sei, kutsu, kutsu e scarpe, kutsu, kutsu ni tsuita, il fango che è attaccato alle scarpe, kutsu ni tsuita d'oro, de, con il fango che è attaccato alle scarpe, non sporcarmi l'entrata, de, genkan, e tu dici perché solo l'entrata e la casa no, perché si tolgono le scarpe, quindi sporcano solo l'entrata, genkan, io me le tolgo sempre, non ce l'ho mai le scarpe, oh, infatti quando metto le scarpe mi sento strano, yugosanai, chitto male però questo qua non c'è, yugosanai, de, non sporcare con le scarpe di fango l'entrata, sette, hikoki, 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 chi è, uè Davis, quanto tempo, te li ho fatti gli auguri di volelo, come va, come voglio, hikoki, come va Davis, cosa ci racconti di nuovo e di bello, in questo 2021 dove non c'è un gioco decente, buon anno anche a te, anche quest'anno ti prego, leccami i piedi, significa che anche quest'anno fammi tutti i favori che ti chiedo in giapponese, tokiwa, hontoni, veramente hontoni, allora quando ci sono problemi sull'aereo, o mi cacco sotto, cioè o mi viene veramente il terrore, sento veramente il terrore, che è quello che succede a me, il motivo per cui non vado più in Giappone. Non ci è male, speriamo proceda meglio dell'anno che è passato. Speriamo di sì, cioè peggio dell'anno scorso, dubito, cioè almeno per me, cioè peggio significherebbe essere nella tomba, quindi spero che vada bene. Oh Kanjita. Kanjita, ah forse Mako non torna a gennaio, mi abbandona, però gli ho detto di stare lì, cioè se vuole stare lì, di stare lì, di decidere lei cosa vuole fare, perché gli hanno allungato la cassa integrazione, quindi fino a marzo, quindi ha detto suoi stare lì. È ancora lì? Sì. Ah ok. No, prima è perché non, perché, così chiama, gli ho detto di allungare io, perché è stata un mese male, quindi vabbè. Adesso invece doveva tornare il 24, però la sua ex K, che però è ancora la sua K, visto che comunque risulta ancora che lavora lì, e che la vuole licenziare quando è finita la cassa integrazione, doveva licenziarla a dicembre, Uè Fabio, ma hanno allungato a marzo, quindi fino a marzo può stare lì, quindi decide lei cosa fare. Attacchino i asai o taberudo, butsu o tsukama e te, yamanimo dosta. Ho catturato gli animali, che ho catturato gli animali, che mangiavano la verdura del campo, e li ho riportati, cioè li ho ridati alla montagna, che significa che li ha lasciati liberi in montagna. Allora, uno attacche e campagna, o campo, no, è campo, attacche e campo. Attacche no i asai e verdura, la verdura. Attacche no i asai. I asai. I asai. O taberu. Taberu è mangiare. Taberu. Vero Seba? Smettite di guardare quella con le tette grandi. Studia. Oggi che giorno è? Mercoledì o martedì? Perché non so più che giorno è? Martedì, ok, la lezione è domani. Taberu. Taberu. Martedì. Quindi, Kaiobi, bravo, così si dice Kaiobi. Martedì, grazie perché sabato sono stato convinto fino alle 4 del pomeriggio che fosse domenica. Infatti non sono uscito neanche per fare colazione, di solito riesco a prendere la brioche. E poi alle 4 del pomeriggio mi sono accorto che era sabato e ho sballato tutta la settimana. Scamate. E' catturare e li ho ridati in montagna. Cioè sarebbe li ho ridati in montagna ma significa che li ha portati in montagna. Nimo d'osta riportare nel luogo perché erano animali della montagna. 2. Koneco, il gattolino che significa gatto piccolo. Qui si dice gattino. Koneco, gattini sono belli ma quando fanno casino cioè io mi ricordo che Tora si infilzava dietro alla play o robe varie e mi mangiava tutti i cavi. Non lo volevo ammazzare di botte. E Koneco, a kawaii, kawaii, ka è carino. Kawaii, ga, ma c'è sempre un ma. Tokidoki ogni tanto. Tokidoki. Abareru che significa che inizia a far casino o si agita. Abareru Noga Komaru però ogni tanto fa casino o si agita è un problema. Komaru 3. Toten in questo negozio che ogni volta sbaglio Toten quindi l'ho iniziato Toten Dewa in questo negozio dove cacchio è? En che è yen sarebbe il kanji di yen Yadoru che è dollaro d'oro d'oro d'akedenaku non solo dollari e yen Oku Oku è tanto Oku no Tsuka 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 e valuta Tsuka Tsuka valuta Tsuka Tsuka o Azuka no così era Azuka Teiro vediamo questo qua non riuscivo a leggere il kanji Azuka Teiro lo so lo conosco è tenere usare Azuka Teiro però non riuscivo a leggerlo quindi me lo segno Azukate Imas Azukate A con l'H o senza no senza Azuka si pronuncia Azuka ok no l'ho scritto sotto il kanji sbagliato Lol Azuka ok poi 4 no ditemelo che ho saltato la 3 no maledetti adesso per me la 3 la 4 ho letto la frase sotto Azui Azui Oyu acqua bollonte Azui Oyu con l'acqua bollente hai saltato la 3 grazie grazie Massi sempre se non mi aiuti tu ogni volta sarei lognato De questo qua era Yoki che io l'ho letto un ai qualcosa perché sono stronzo ho sempre una battuta nuova Yoki Yoki questo me lo scrivo aspetta Yoki ma è vero che Yoki io me lo sto inventando è probabile che me lo sta inventando Yoki no è giusto Yoki Yoki che è contenitore o Shodoku che è disinfettare che è il kanji di come si chiama cancellare più veleno dov'è lo trovo più sì il kanji di cancellare più veleno Shodoku disinfettare o sterilizzare o come cacchio volete sta ho sterilizzato il contenitore con l'acqua bollonte poi 5 no non l'ho fatto ho fatto la 3 adesso 5 kateio robotto il robot a uso casalinguo kateio robotto kateio robot kateio 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 si stanno si espanderanno cioè saranno sempre più nudi 6 i tori gurashi vivere da solo i tori gurashi ricordatevi che kurashi però con i tori diventa gurashi perché? perché suona male il motivo non si sa il motivo è solo perché suona male i tori gurashi ua che però per me suonare male è soggettivo può suonare bene per me per la volta kiraku e kiraku essere molto comodo vivere da soli è molto comodo è bello daga però c'è sempre un però un ma bioki quando ti ammali sono cazzi bioki bioki è malattia quando ti ammali ninata quando ti ammali ninata tokiwa quando ti ammali è un problema komaru komarimasu 7 cici il papà mio papà è ua saishin ultimo modello saishin il più nuovo sarebbe no sezubi 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 o mozsu tenere mozsu mozsu eeeh biyoin è ospedale biyoin biyoin ciciuzuzu o uketa mio papà è stato operato nell'ospedale che ha l'equipaggiamento più nuovo complimenti allora andiamo avanti e qua cosa devo fare ah qua devo scegliere la parola giù mettere la parola giusta nel buco giusto mi piace mettere le cose nei buchi giusti prima lo leggo velocemente allora mangaichi no bai ni in genuito no to do ryoku de kiru kanke o tsukute o ko sonai te dovrebbe essere ni sonai te non so che cazzo significa in caso succeda questa cosa dobbiamo dobbiamo costruire una relazione di aiutarci tra i vicini praticamente tsugino naka karata da shimono e rande e kotai te kodasei e dovrebbe essere kigo allora scegli tra quelle la risposta esatta e fai un segno non dovrebbe essere kigo poi kochira salta il pezzo tonate o rimasto de tabacco oa go oh mio dio questo questo è toku tokuduo questo non lo so leggere questo qua è il kanji di lontano enryo questo non lo devo segnare allora questo qua sicuramente qui non si può fumare quindi non puoi smettere di fumare dovrebbe essere questo qua kien o c'era kien tonate o rimasto de tabacco go enryo kodasei dovrebbe enryo smettere di fumare adesso lo cerco per sicurezza dovrebbe essere smettere di fumare enryo enryo mi riesce a scriverlo voglio scriverlo ah c'è un audi trop no il pc ha iniziato a fare casino enryo cioè frena dalla voglia di fumare trattieniti dal fumare enryo e trattenersi no lo sentite il rumore della ventola quello che non si sente devo comprare la ventola però pagare 40 euro per una ventola mi giro veramente morosi allora manga ichi no vai quando succede qualche problema qualcosa è meglio se ti costruisci una riduzione con i vicini kinen shimasu smettere di fumare kinen kinen sai che kinen non è smettere di fumare? kinen non è smettere di fumare come è che si diceva? tabacco yameru si dice smettere di fumare è tabacco yameru kinen è vietato fumare allora io ho smesso cinque anni fa praticamente fino a 25 anni non ho mai fumato poi di colpo ho iniziato a fumare perché se no avrei ammazzato tutti i miei colleghi di lavoro manga ichi bello che l'ho scritto così manga e manga ma lo scrive in tutti i modi tra le cose manga ichi no vai e google che kannami da tre significati diversi ni sonai te questo dovrebbe essere sonai te ma non lo so potrebbe essere sbagliato kinjo e quelli del vicino costruiamo una relazione di di aiutarci uno con l'altro nel vicino altro kinjo kinjo no ito ito to kyorioku come fanno i genitori di mako in kyorioku kanke che si aiutano tra di loro kanke no manca un pezzo kyorioku dekiru kanke dekiru kanke o tsukute oko vabbè sotto devo scrivere il taglio o tsukute oko adesso dobbiamo fare anche il il discorsone non l'ho finito e google che canna mi da eh si vabbè ma google ogni tanto è pazzerello no però smettere di fumare proprio tabacco jameru quello lo so sicuro perché mi rompeva sempre i maroni di papà di mako poi alla fine ho smesso perché volevo smettere no ho smesso perché continuavano a aumentare di prezzo io fumavo giusto per cioè così non è che mi piaceva robe varie fumavo perché non sapevo che cazzo cioè era il gesto non era tanto il fumo poi buttavo subito fuori tadashi tadashi è giusto corretto mono erande scegli la cosa giusta mono erande o erande io avevo iniziato all'università e rispondi con un simbolo io avevo iniziato all'università e Dani Dani continua ad entrare ad uscire anche lui sta vedendo la live della tipa con le tette che non se ma ce lo siamo persi ma ha detto sei in live con la tipa lì e poi è sparito chissà come mai però domani mi vendicherò durante la lezione allora tre kochira waki questa zona questa zona questo è nel prossimo scegliete le cose giuste e rispondete con un simbolo kochira waki questa zona questa parte sarebbe sarebbe kochira waki kinhen hai vietato fumare tonate ho rimasto ho rimasto no è che ho dovuto spegnere il pc no vai tranquillo sto scherzando non de vedi tipo qua dice tabacco scritto così ogni tanto scrive tabacco in katakana ogni tanto in iragana come vuole lui qua go enrio enrio è trattenersi al fumare tratteniti dal fumare questo me lo devo scrivere ok poi cioè me lo devo segnare ok lo scrivo pure mi e poi facciamo il discorsone che c'è dopo a parte che potevo scrivere tutto erano tre righe vabbè qua ho scritto kigo che è segno a me non mi sembra uno è kigo l'altro è shingo l'altro è kippu l'altro è kitte no è l'unico rispondi con un semaforo rispondi con un biglietto rispondi con un francobollo o rispondi con un simbolo mi sembra che la più giusta sia questa non so perché allora questa e questa vedi queste qua mi piacciono che le altre sono sbagliate si capisce che sono sbagliate cioè se sai i significati sai che sono sbagliate a me mi sta sulle balle quando ti mette quelle tutte che possono essere l'una o l'altra e non ti accorgi della differenza allora manga ichi manga ichi manga ichi significa in caso succeda qualcosa manga ichi non vai in caso tu abbia bisogno anche potrebbe essere in caso di bisogno meglio se ti costruisci un rapporto di chi si chiama kyorioku è aiutarsi a vicenda con le persone del mio posto te sei sbagliato te sei sbagliato allora kinyo 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 sono le persone del posto del vicinato kinyo no ito to con le persone del vicinato kyorioku kyorioku aiutiamoci a vicenda kyorioku 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 ma come sono un pirla perché sono un pirla così gratis sei un pirla sei un pirla perché beh che sono un pirla quello si sapeva già non è una novità kyanke o tsukute o kimashou o tsukute o ko si o ko che è la stessa cosa io l'ho detto col mas qua non c'è ok in caso tu ne abbia bisogno sarebbe meglio che ti costruisci una relazione di aiutarsi a vicenda con le persone della zona del vicino 2 tsugi no ha nel prossimo tsugi lo faccio sempre con tre segnetti invece con due tsugi no nakakara dal prossimo scegli quello giusto tada shi tada shi è giusto mono mono è cosa scegli la cosa giusta erande erande non lo so ogni volta lo scrivo con l'a che invece con l'a è normale erande chigo chigo è segno chigo chigo de cotae te e rispondi con un segno è erotico perché non puoi picchiarmi e quando arriva massi si prendere il mio debito ah sì sì no ma quello si già io metto tutto da parte sì ma massi hai sentito che è più grosso di me quello mi riempie di botte 3 io sono alto e lungo ma lui è grosso e con le braccia grandi quindi mi schiaccia come una pizza kochira kochira wa kinhen ah ieri finalmente sono venuti a prendere i mangi cioè il corrieri che quindi ho avvisato sia fox che seba kinhen che ha vietato fumaro kinhen tonate ho rimasto visto che questa zona è è vietato a fumare la prego di smettere di fumare ho rimasto e la risposta è vai affanculo stronzo di solito funziona così tabacco aereo go aereo kudasai dopo una settimana sono arrivati sì esatto le chiedo c'è scritto paghi questa cifra in due giorni in tutto il mondo spediamo facciamo fino a una settimana solo per il verino a ritirare va bene importante essere convinti go aereo speriamo che vi arriva fatemi sapere più che altro se gli arriva go aereo kudasai le consiglio di trattenersi dal fumare ok facciamo il discorsone chissà di che cosa parleremo oggi non lo so perché non l'ho visto lo vediamo adesso questo qua copro tutto e andiamo avanti allora senjitsu soraga totsuzen pikato ikaru totomoni monosugoi otogashte jitaku teienste shimatta ok faccio frase per frase se non finiamo più il giorno prima il giorno prima nel cielo all'improvviso c'è stato un si è illuminato e ha fatto un forte rumore e a casa mia è saltata la luce la corda allora adesso ve lo scrivo senjitsu senjitsu il giorno prima qualche giorno fa sora sora è cielo sora ga totsuzen all'improvviso to tsuzen non è totsuzen 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 pica pica e vediamo se sapete picatto picatto che sarebbe pikachu che significa illuminato picatto picatto ikaru ikaru è luce ikaru fortuna che hai gli effetti al microfono altrimenti sarei morto di infarto perché ho abbassato il coso totomo monosugoi monosugoi otto ho fatto un forte rumore gas te jitaku è la mia casa c'è la mia residenza ga teiden teiden no no perché hai gridato no non è vero teiden ste si ma ste si matta non ho urlato io non urlo mai allora appunto allora senjitsu sora ga totsuzen picatto ikaru totomo monosugoi otto gas te jitaku ga teiden tei shimita il giorno prima nel cielo all'improvviso si è illuminato e c'è stato un forte suono un forte rumore e la mia casa è saltata la corrente c'è stato il black kakaot allora poi abbiamo cura i teitano de cura i teitano dovrebbe essere aspetta non è quello di cura sì mo iga non fare grosso solo perché sei grosso esatto mo i aspetta questo qua o questo qua è quello di arete areteitano non c'è scritto questo qua dopo lo guardo mo higa areteitano de ma cura de mo nanimo mie nai ah no cureteita dovrebbe essere cureteita vabbè ormai non c'era più la luce e non vedevo più niente perché era tutto buio tokuni inansuru shizio wan nakata ga totemo fuben fu fuyasui fubende fu fuan fuan mo kanjita allora specialmente non c'era bisogno di no aspetta questo è inan dovrebbe essere inan non c'era bisogno di si chiama evacuare ma mi sentivo scomodo e fuan non sapevo cosa fare tipo si fuan fu bene giusto questo qua lo scrivo lo vediamo ok mo higa mo questo hi è inteso come come luce ah mo higa ok questo era finito il giorno kurete itano de kure quindi l'ho tradotto giusto ce l'ho letto giusto kure te itano de il giorno era già finito visto che il giorno era già finito makura de bakura significa totalmente buio makura de nanimo nanimo niente come ben sapete mienai non riuscivo a vedere che era una fava per traduzione allora già il giorno era finito e quindi non potevo vedere niente perché era buio pesto tokuni specialmente tokuni inan vediamo se è giusto ho detto inan ma non lo so inan suru itzuyo itzuyo è importante non era necessario itzuyo questo è necessario però dice nai wanakata non è stato necessario evacuare ma e c'è sempre un ma totemo totemo molto che io dico totemo ma non è doppia è la mia pronuncia scusate totemo fu ben fu ben è scomodo e fu an fu an è quando sei non confuso com'è che si dice kanjita non è confuso è tipo non sai cosa fare ma è qua non metto il punto perché non ci sto fisicamente andiamo avanti allora subeteni denkyo rio suru jitakun nanode questo qua dovrebbe essere zai rio no riori modekir questo è riori binkir sono fuori di testa non si riesce neanche a preparare da mangiare sono io wa questo è shoshoku shishoku non me lo ricordo mai surukotoni nishte e questo qua è odo gofun sakamichi nobote ma che cazzo c'entra scusa nobote su go notokoro chissateni itta allora tutte tutte le case che usavano l'elettricità tutte le residenze cosa significa tutte le residenze che usavano l'elettricità non potevano cucinare e quella sera per mangiare quel giorno per mangiare la cena camminando a piedi salendo una salita siamo andati al praticamente a chissaten al bar cioè a mangiare al bar ok fischiamo sta roba subeteni denchi subetè tutte subetè denchi elettricità subeteni denchi denchi elettricità qua c'è anche canji di subetè che non c'era però vabbè lo mettiamo o rio rio è usare rio attenzione che la io è grande rio suru jitaku no jitaku residenza jitaku 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 io ho detto jitaku jitaku nano de lo segno questi qua ogni volta me li confondo però prima l'ho letto giusto vabbè non importa lo segno jitaku nano de riori mo anche i piatti c'è anche cucinare riori riori a cucinare riori riori mo de kisu senza poter cucinare de kisu de kisu virgola sono chi quel giorno sono chi guai shoku questo l'ho sbagliato guai shoku e mangiare fuori io l'ho letto come cena guai shoku sui cotoni ste li ho andati a mangiare fuori ecco perché c'era camminare questo qua è odo dovrebbe essere odo o todo odo odo no to do toho todo non me lo ricordo più oh mio dio questo qua è quello di seito è toho toho minchia ce l'ho fatta toho gofun gofun e cinque minuti poi l'ho letto prima gofun camminando cinque minuti in salita sakamichi extradipendenza sakamichi sakamichi nobote e quindi significa che è una strada in salita nobote camminando cinque minuti in salita noboru è salire nobote non ho messo il kanji quindi lo mettiamo suguno tocoro vabbè non ci sto quindi taglia suguno tocoro il primo posto suguno tocoro no chissà te al bar il baretto ma scusa come faceva il baretto avere la luce se è saltata la luce a tutti nita è saltata tutti la luce tranne al bar era stato quello del bar poi tociu in mezzo alla strada kaminari ga ocitano ga niwa no kikara kemuri odeteiru ie ga atta mentre andavamo lì è caduto un fulmine e dal giardino del e dall'albero del giardino è uscito dall'albero aveva un gruppo elettronigeno esatto aveva quello che dura 15 minuti prima che si spegna l'elettricità c'era una casa da cui usciva il fumo però c'è scritto dall'albero del giardino esatto il gruppo di continuità allora tociu durante il percorso tociu 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 kaminari e fulmine kaminari kaminari ga ocità è caduto un fulmine ocità no no ca niwa elettrogeno niwa niwa è giardino no kikara dal l'albero del giardino questo è kemuri se non ho sbagliato a tradurlo si kemuri no de te iro ie casa uci qua come l'ha tradotto io uci io ie ga atta allora mentre mentre andavamo è caduto un fulmine e c'era una casa da cui usciva il fumo dall'albero del giardino l'ho fatta kajini naranakute yokata uci wa daio cane questo qua aspetta è kokaku poca poca occhi come si dice occhi cane dai dai cane dai daikin daikin uci wa daikin inya kokana osekinado wa naino de manga ichi dorabogaitemo okina igai wa nai ga kaza ga ase ase starah ontoniko waitomota si ase questo qua non lo sapevo ma l'ho inventato adesso bene allora praticamente il cliente dice a casa mia non ci sono né tanti soldi né tante cose preziose né tante né come si chiama gioielli preziosi quindi anche anche se fosse che entra un ladro non farebbe tanti danni però se sarebbe accaduto un incendio avrei veramente avuto paura è certo si brucia la casa anche se non hai cose preziose vivi sotto un ponte lo stesso dai kin esatti i condizionatori significano daikin che significa contanti cioè ammontare di soldi daikin allora che è quello che ho io che ormai è diventato giallo quel daikin devo provare a chiamare per sentire perché non mi è cioè non mi sembra che funziona un condizionatore adesso li chiamo dopo allora però non so se verranno male allora ora si niente ho scritto devo scrivere tutto sono contento che non è successo un incendio per fortuna non c'è stato un incendio ucini a casa mia ucini ua daikin taikin non daikin taikin io ho detto daikin però taikin ya coca me lo segno ho detto daikin sono sicuro sì sì ho detto daikin me lo segno è taikin grande ammontare di soldi coca na monò cose preziose perché non me lo scrive coca na coca na coca na osechi osechi è gioielli osechi ma avrà la esatta l'h osechi infatti era riferito alla pronuncia ok sì ogni tanto mi si interessa la lingua metto dei nigori dove non ci sono il mio appunto perché perché sembra sempre che come si dice suona meglio così per me per quello ti dico il loro la loro funzione è che se suona meglio metti nigori non funziona molto perché a me suona meglio daikin che taikin però manga ichi normale manga ichi dorobo dorobo e ladro dorobo ga aitemo anche se entro ladro aitemo pochina pochina igai non ci sono grossi problemi siamo abituati a quel suono wanaiga eh sì esatto più che altro perché si pronuncia dai quello lì si parte che si pronuncia dai o o però poi ogni tanto è anche dai kazai 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 ga asse asse starà ontoni koai tomo koai tomo se veramente se fosse avvenuto un incendio mi sarei caccato sotto praticamente avrei avuto veramente paura ok allora le parole sono tante milioni di milioni abbiamo senjitsu poi abbiamo totsu zen poi abbiamo teiden esatto poi abbiamo cure pure te per finire poi abbiamo yinan che è evacuare poi abbiamo questo qua che era odo o todo come me non me lo ricordo più l'ho già detto mille volte dovrebbe essere odo dove cacchio è camminando in bicicletta canta te non lo trovo più qua odo poi c'è sacamici che è la strada in pendonsa sacamici poi c'è chissà te poi c'è kemuri che è fumo kemuri poi c'è osechi che è giuielli poi c'è d'orobo che è ladro poi c'è kasai che è incendio e poi basta ok queste erano le parole che in teoria dovevo scrivere in katakana però c'è in iragana però se le scrivo e le leggo va bene è la stessa roba allora adesso facciamo le due fantastiche frasi e poi scrivo tutto la frase è ishawa do koni inan surebahi ga wa karanak te komatta no è sbagliato c'è chi racconta lo scrittore ishawa do koni in che luogo inan inan surebahi e poi le domande sono stronze perché se non hai capito il senso potresti bagliarti perché dice dici ah c'è scritto la parola inan ga lo scrittore era preoccupato perché non sapeva dove poter evacuare no sbagliato bazzo c'è scritto e poi due isha la biscia isha no kinjo 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 e poi e poi quello di denki no non è quello di denki è il coso chiuso kaminari non ha la coda non ha la coda kaminari kaminari ga ocite i kasai nattesimata kasai no è sbagliato che ho detto kasai nattesimata è vero per metà praticamente dice che vicino alla casa dello scrittore nel vicinato alla casa dello scrittore è caduto un fulmine e se è fatto un incendio no perché c'era solo il fiumo ma dice che ase stene giusto alla fine ase starà no dice che non kajini naranakte yokata kaji è lo stesso cosa di quindi no l'incendio non c'è stato e quindi anche questo è falso due falzi siete tutti falzi allora ex ex scrivo tutte e correggiamo cioè correggio e scorreggiamo e scorreggiamo tutti insieme allora senjitsu qualche giorno fa mi dissocio mi dissocio guarda che è tornato abbiamo parlato di te fino a un minuto fa e adesso si dissocia stai studiando seba è bene ti fai distrarre da quelle con ecco perché mi fischiavano le orecchie ti fai distrarre da quelle sproporzionate poi non riesci più a capire il giapponese e poi mi tocca picchiarti a sé dunque allora allora qua qui e qua ho il brutto vizio di lavorare a Shara è maledizione anche io avevo quel vizio adesso ho preso il vizio di studiare infatti quando mi diranno che cosa fai di lavoro studio ha 47 anni studio sen jitsu qualche giorno fa no mi sa che devo addirizzare la telecamera ho storto io sen jitsu qualche giorno fa sta studiando le misure sta studiando le misure esatto sen jitsu e ricordati che misurare si scrive con tre cangi diversi in base a che cosa misuri ricordati che è importante questo quando guardi quelle cose lì allora totsu zen all'improvviso totsu zen all'improvviso vedi così tu dici ah cacchio ma l'ale mi ha detto che misura si scrive con che cangi si misurerà questa parte quindi dovresti pensarci piccato tipo 4 piccato mi sei venuto in mente tu ma non non c'eri piccato significa all'improvviso c'è stata una luce ikaru to piccato ikaru to tomoni insieme a una luce c'è stato un suono forte totomoni monosugoi un suono molto forte monosugoi otto gas te ha fatto un suono bello fuorte ho venuto a scrivere otto otto gas te jitaku 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 che ancora ho detto jitaku ah no giusto qua è jitaku giusto giusto allora sotto avevo detto jitaku perché ho detto qua jitaku jitaku pica pica è illuminare cioè non è illuminare quando fa pica pica come faccio a dire brilla stilca brillare pica pica stilca brillare piccato ikaru ha fatto una luce brillante cioè sarebbe un abbagliato e c'è stato un rumore forte e la parte di chiu l'hanno aggiunta per fare una cosa carina cioè per mettere un numero carino e come e come tora che hanno scritto doraemon per farlo diventare carino perché pica 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 allora quando uno al cioè vabbè come si chiama è pelato e dicono pica pica perché ha la testa che si illumina per farlo kawaii esatto per farlo kawaii a tora però è è impossibile è jittaku jittaku ga teiden casa mia è saltata la luce chi è pelato c'è stato un blackout chi è pelato nessuno è arrivato quindi è un modo di dire è pica pica la testa che brilla quindi esatto esatto brilla come one punch man è la testa di one punch man è pica pica esatto pica pica ste i maschi significa che ha la testa lucida poche brilla dipende dalla situazione ormai il giorno sta finendo e un anno se ne va il giorno sta finendo e un anno se ne va sono diventato grande visto che ormai il giorno era finito makura significa un buio pesto makura kuruske ma kurukuruske è quello di totoro quello tutto nero la spora nera che infatti è nero de nanimo nanimo e niente come ben sapete vero seban nanimo mienai mienai non riesco a vedere comunque se vedete qua ci sono un sacco di kanji che avete imparato voi tokuni specialmente nanimo nanimo esatto vedi e c'è anche mieru che è quello di vedere tokuni inan inan è evacuazione inan 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 inansuru itzuyo nakata non è stato necessario evacuare qualcosa era nanika o naniga kappa qualcosa era nanika nanika mi sono perso il signor nakata di ho ha nakata non è necessario fare l'evacuazione ma ga totemò totemò fu ben è molto scomodo fu ben fu ane che sei confuso come si dice fu ane non è confuso non viene la parola in italiano insicuro e fu ane fu ane mo kanji tae ho sentito dell'insicurezza no io mi giravo i coglioni perché sicuramente ero in partita mi è saltata la luce e non l'avevo salvato kanji tae tutte su bete ni denki o rio suru giuta kuna no de sono tutte sono tutte case che usano l'elettricità tranne il bar dove siete andati su bete ni denki perché a 5 minuti da lì funzionava tutto sulla casa vostra ah perché dici il fulmine è caduto solo lì e quindi ma però a me la parola è stronzata denki quando salta la luce salta tutta la zona o rio suru sono tutte case che usano l'elettricità e quindi l'abbiamo presa tutto su ru jutaku questo me lo scrivo che vai che lo so è quello di jumin però vabbè ho detto jitaku perché prima avevo detto jitaku e l'ho ripetuto nano de però jitaku è casa mia jutaku è residenza riori che è piatti da cucinare così quando salta la luce seba non può più cucinare nulla e non ha più scuse per non guardare la mia lei riori mo de kisu senza poter cucinare de kisu senza poter cucinare sono hi quel giorno sono hi qua ah qua avevo sbagliato gaishoku l'ho letto come cena perché sono un coglione questo qua è andare a mangiare fuori che significa andare a mangiare fuori che poi è il kanji di fuori quello però l'ho letto in fretta ho sbagliato e me lo segno perché è giusto che sia così gaishoku suru kotonishte siamo andati a mangiare fuori quel giorno siamo andati a mangiare fuori questo qua era toho è camminando toho questo è il kanji di seito vi ricordate studente toho se non me lo sapete vuoi gofun camminando 5 minuti gofun lo sapete invece gofun sakamichi è strada in pendonza sakamichi o noboru è salire la salita sarebbe nobotte vedi che dicono sakamichi noboru nobotte sugu che era quello che ti spiegavo l'altro giorno mi sembra a jo stavo spiegando questa cosa qua che quando loro dicono sakamichi noboru o sagaru perché non c'era la strada cioè mici o sagaru vabbè comunque ci siamo capiti quando abbiamo fatto strada in salita e strada in discesa sugu no notokoro no kisaten che è il baretto il baretto il baretto a 5 minuti camminando in salita ho capito ma il baretto in 5 minuti in salita come fa a avere la luce per me è stato il baretto a farvi saltare la luce così guadagna i soldi chissate nitta e siamo andati al baretto a 5 minuti a piedi tociu nel frattempo cioè mentre andavamo tociu è mentre andavamo sarebbe in mezzo alla via camminari qua non so perché non metto il cangin che bello da mettere io lo metto perché lo so camminari camminari o ga o città è caduto un fulmine o città o città no ga potrebbe essere caduto un fulmine niwa niwa lanciamo i componenti no è giardino niwa no chi l'albero del giardino karà che dall'albero del giardino c'era una casa usciva il fumo dall'albero del giardino kemuri questo è fumo e kemuri no deteiru deteiru uscire deteiru ie ie casa e ti telefono casa ie gatta c'era una casa da cui usciva il fumo dall'albero kaji kaji è incendio kaji è fuoco o incendio kaji ni naranakte yokatta per fortuna non c'è non c'è stato il fuoco naranakte yokatta per fortuna yokatta punto ucini ucini io non ho né soldi né diamanti e quindi sono molto contento bravo ucini e wa ucini qua mi devo scrivere che sono un pirla ucini e wa a casa mia taikin taikin che è tanti soldi ta i taikin taikin ya coca coca è cose preziose coca oca osechi 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 è diamanti gioielli gioielli preziosi soldi eccetera eccetera non ci sono nadoa nai vedete che c'è il nado eccetera eccetera non ci sono nai visto che non ho né gioielli né diamanti eccetera eccetera mangaichi anche se fosse ecco mangaichi anche se fosse mangaichi dorobo che è ladro dorobo devo fare amicizia con una cinese se no non posso vedere più drama l'ho già detto mille volte anche se entra un ladro anzi dopo seba mi devi aiutare tu sei l'unico che può aiutarmi perché devo mettere degli script che non so dove si emettono per entrare nel sito cinese per prendere i ma come si chiama per vedere non per prendere per vedere come si chiamano i i i i dorama devo iscrivermi a baidu.com che è super cinese quindi non ci capisco niente qua naika naika a casa mia a casa mia non ci sono né gioielli né tanti soldi quindi anche se fosse che entra un ladro non mi fa tanti danni però magari ti cacca sull'enzuola puoi guardare beautiful eh sì esatto no ma se se le trasmissioni almeno su amazon fossero in giapponese invece no che poi ho visto che a come si chiama a mediawar c'era la serie di la mu ed era con il linguaggio giapponese non ho capito perché non l'ha messo in giapponese su prime gli manderò una lettera che ho scritto me lo potete mettere in giapponese grazie starà ontoni ontoni kowai anzi gli scrivo dopo così gli ho più coglioni kowai to omotta allora kasaiga assestarà ontoni kowai to omotta io non ho tanti né tanti soldi né tanti gioielli eccetera eccetera quindi anche se fosse che entra un ladro non mi farebbe tanti danni però se sarebbe accaduto l'incendio mi sarei caccato sotto ok poi abbiamo isha la biscia uno isha isha wa colui che scrive e chi racconta colui che scrive vabbè isha isha che ti passa isha isha wa do koni do koni da che koni inan in quale dove evacuare do koni inan 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 non lo capiva non lo capiva wakara nakute ed era preoccupato perché non capiva dove poter evacuare wakara 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 nakute komatta sbagliato komatta poi due isha labisha colui che scrive koni no chingio chingio che è avvicinato chingio no ien no ien ni caminari caminari quando mettiamo senza siamo stronzi gao cite caduto un fulmine che palle non mi si apre l'occhio bionico non ti si apre l'occhio bionico gao cite k 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 avrà il pad rotto o il gioco rotto decidi tu kasai kasai ni infatti qua manco ni mi sembrava strano che c'era qualcosa che c'era ninatte ho fatto la quest di panama ninatte cimatta e io non ho ancora finita mi dice che ho ha trovato una soluzione per salvarmi la vita ma come cacchio fai a farle così in fretta io ci ho messo una vita allora cioè non ci ho messo una vita non ho ancora finito per me metto Bari, salti tutti i dialoghi anche perché il gioco senza dialoghi dura mezz'ora allora controlliamo gli eserciazzi e ci si salutazza sono stato bravo ah ovvio ok no io li sto guardando perché è la prima volta che ci gioco poi sicuramente non li guarderò mai più allora non ho scritto esercizio in nessuna parte ah sono stronzo allora unità 6 unità unità 6 esercizi esercizi ok molto bene allora controlliamo aiutatemi perché sono pazzo e leggo le soluzioni sbagliate e poi dico ho sbagliato infatti ho sbagliato a leggere allora le soluzioni sono queste 1-2 è giusto 3-1 è giusto 3-3 è giusto 3-4 è giusto 5-3 è giusto 6-2 è giusto 7-3 è giusto ok poi 1-3 2-2 3-3 dove cazzo è? non ho scritto il 3 non l'ho scritto che so strozzo vediamo il kanji dov'è non ho scritto 3 però sudoku dov'è 3-3 e si è 3-3 è giusto il kanji è quello 3-3 3-3 qua mi sono me lo so scurda 3-3 e poi abbiamo dove cacchio è? però ho scritto il kanji quindi è quello giusto sono perso 4-2 giusto poi abbiamo 5-4 6-4 5-4 6-4 e 7-1 giusto poi non lo sia 7-0 poi abbiamo 1-2-3 le risposte vediamo no non le vedo ah non l'ho scritto sono avanti però le ho messe allora 1-2-3 sonai-te è giusto 1 lo scrivo però è giusto comunque 2-chico è giusto 3-3 è Kien giusto poi dovrebbero essere tutte e due Batsu Batsu e Ribatsu giusto ok sono queste qua bene stranamente le ho fatte anche tutte giuste a parte che non mi ricordavo come solito i kanji facili e per quelli difficili me li ricordo però per il resto niente è stato molto bello ricordatevi di studiare perché se no prendete le botte vi mando dalla drossa che sta giocando all'immortale mi sono messo a leggere i discorsi dopo un certo punto che dopo un po' mi sono rotto no vabbè ma io li tengo cioè nel senso i discorsi li ascolto perché li ho messi in giapponese per fare esercizio ricordati di telefonare a Mako-san sì adesso la chiamo subito Mako ciao a tutti e grazie rimanete qua che vi porto dalla drossa e non fate gli stronzi se no mi tocca picchiarvi a sangue aspettate un secondo allora esegui ride verso il canale la drossa che poi arriviamo sempre lì in due che scappiate tutti allora io la saluto sempre sì sì no lo so lo so sto scherzando 3 2 1 via 3 2 3 3 4 6